Quindi oggi il tema di esame che voglio risolvere è uno di quelli, normalmente facciamo così verso la fine del corso, andiamo a prendere gli esami dell'anno precedente, li risolviamo in aula, così sono cose nuove di cui le soluzioni non erano ancora pubblicate e nello stesso tempo vanno ad arricchire le soluzioni via via pubblicate. E quindi visto che l'altra settimana abbiamo fatto l'esame insieme a Giuseppe se non sbaglio, l'esame del primo appello dell'anno scorso, adesso proviamo a fare l'esame del secondo appello dell'anno scorso, che lavora quindi 14 luglio 22. Si considera il database contenuto in un file New York City Wi-Fi Hotspots, che è un database composto da una sola tabella che elenca gli hotspot Wi-Fi disponibili nella città di New York, quindi hotspot più o meno pubblici disseminati in vari luoghi della città. Ogni riga di questa tabella rappresenta un singolo hotspot e poi ciascuno di questi ha tutta una serie di informazioni, tra cui ad esempio tipicamente possiamo riconoscere la posizione, l'attitudine e longitudine che sono qua, il fornitore, il provider, quindi l'operatore telefonico che lo fornisce, che lo offre, la città, perché New York chiaramente è una cosa molto vasta, è divisa in città diverse, l'SSD che è il nome della rete, quando collegate col telefono a una rete, quello si chiama SSID, Signal Identifier essenzialmente, e vabbè, Boro sarebbe Boro, cioè vicinato, cioè quartiere, anche lì abbiamo il nome di quartieri, qui sono divise le cose e sono divisi la città, quindi questa è una tabella con parecchi campi e contiene circa 3000 hotspot, dei quali potete vedere queste informazioni, quindi una unica tabellona grande, che contiene ovviamente, voi che ricordate bene, base di dati che avete fatto l'anno scorso, è un database molto denormalizzato, una tabella unica che abbia tutto dentro, immaginate solo che il provider è il fornitore di telefonia, di provider ce ne sono alcune unità, e quindi uno si aspetterebbe di avere una tabella dei provider con la chiave esterna, eccetera, eccetera, quindi è denormalizzato, ma ce lo siamo trovati così. Ok, cosa ci chiede di fare l'esercizio? L'esercizio ci chiede di selezionare da un menu a tendina un Boro tra quelli presenti nella colonna omonima o quasi omonima, quindi noi dobbiamo innanzitutto estrarre dal database questi vicinati, questi Borghi, andiamo a vedere la colonna Boro dove si trova, sarebbe Boro name, Boro, sì perché non c'è una colonna che si chiama esattamente Boro, giusto? Boro name, Boro code, sì non esiste, ah no scusate c'è, è la seconda, me l'ho persa, ok? Quindi questa qua, è la sigla relativa al Boro di cui dopo abbiamo i nomi, eccetera, quindi BK, MN, Q, SI è il nome del vicinato. Per farci un'idea, giusto per capire quali sono, From, una tabella, una sola ne abbiamo, Ne abbiamo, perché bisogna scrivere la forza giusta, facciamo scrivere lui così non sbagliamo l'h, From, sono perso un pezzo, ok, e in questo caso sono solamente cinque, quindi potrei spaventarci, ma in realtà è una tendina in cui dobbiamo metterci questi cinque valori, estratti da una prima colonna del database, Questo è il punto A. Punto B, la pressione del bottone crea grafo, si costruisce un grafo semplice, pesato e non orientato, semplice, pesato e non orientato, i cui vertici corrispondono ai codici NTA presenti nel borgo B. Quindi noi abbiamo partizionato la città in questi cinque borghi, In ciascuno di questi borghi ci sono queste reti d'accesso, la sigla è NTA, vediamo dov'è la colonna NTA che valori contiene, c'è un NTA code, e NTA name, che sono i vari tipi di accesso, e ogni borgo può averne un numero diverso di questi, e questi diventeranno i vertici del grafo che ovviamente lavoreranno solamente le informazioni del borgo selezionato. Quindi giusto per avere un'idea, proviamo a esplorare un attimo questo database, andiamo a vedere per ciascun boro quanti NTA ci sono, ad esempio, io potrei provare a fare, giusto per avere un'idea della dimensione dei dati, così mi aiuterà poi dopo a scegliere anche le strutture dati, ad esempio il borgo, virgola, account di NTA code, from, sempre la tabella è una sola, group by, borgo, quindi vedo che abbiamo dei quartieri con pochi NTA, tipo questo qua di SI che ne ha 95, e quindi mi darà un grafo con 95 vertici, e altri che hanno invece 1600, quindi mi darà un grafo che è decisamente più grande, così quando farò anche gli esempi, il debug, parto sicuramente da questo, che è più gestibile, e non mi dà problemi, probabilmente di velocità, di caricamento o altro, giusto prendiamo familiarità con questi, con questo database, quindi scelgo uno di questi, e mi dà un grafo, i cui vertici sono questi, 95 o quanti saranno, gli archi, che di solito è sempre la parte un pochino più rognosa, del primo punto, che collegano a ciascuna coppia di vertici, cioè coppia di NTA, hanno un peso pari al numero di SSD distinti, che compaiono in almeno uno dei due NTA, numero di SSD distinti, che compaiono in almeno uno dei due NTA, vuol dire che in un certo NTA, associato a un certo NTA code, ci sarà un certo numero di SSD, poi ho un arco, che collega due vertici, quindi avrò gli SSD, del primo vertice, gli SSD del secondo vertice, e sull'arco devo scrivere, il numero totale di SSD, distinti tra di loro, quindi se c'è un SSD in comune, tra le vertici partenti e le vertici arrivo, lo conterò una volta sola, se sono SSD diversi, invece li conterò più volte, e questo diventa il peso del mio arco, si calcolerà, e poi lo ridice con altre parole, si calcolerà quindi contando gli elementi dell'unione degli SSD presenti nei due NTA corrispondenti ai vertici adiacenti, qualora tale numero si appare a zero, l'arco non deve essere inserito, allora, quando è che questo numero è zero? quando sia il vertice di partenza che il vertice d'arrivo sono entrambi con zero SSD associati, credo che non si possa verificare, perché quando io ho una riga in cui c'era un NTA, che ho usato per estrarre l'arco, su quella stessa riga del database, un SSD c'è, quindi ho l'impressione che questa frasetta sia stata scritta qua per abbellimento, ma nella pratica non credo che possa succedere, almeno uno ce l'ho, se no quel vertice lì, come ho fatto a generarlo? Però, teniamolo presente, volendo potremmo verificare con due query al volo, per vedere se è vero che questo numero è sempre diverso da zero, se esistono NTA con zero SSD associati. Dimmi. 5 in uno e 5 nell'altro uguali tra di loro? Il peso fa 5. Ok, rileggi la frase dopo. Gli elementi dell'unione degli SSD presenti, qui non ti chiede di dire quanti sono diversi tra i vertici di partenza e i vertici di arrivo, ti dice quanti sono in totale distinti tra di loro, distinti tra loro, diversi tra loro, senza contare due volte un'eventuale SSD che compaiono in entrambi i vertici. Certo, è vero che questa frase all'inizio si poteva, come sempre negli esami, voi siete maestri a leggere le cose in un modo assolutamente imprevedibile per chi le scrive, ma è giusto anche se vogliamo un messaggio per l'esame, se avete dei dubbi sul testo, non aspettate un'ora a palesarle, le dite, perché può capitare. Infatti, quando ci sono frasi contorte di solito cerchiamo di fare un esempio o esplicitare con altri termini, ma rimane sempre un certo margine di ambiguità. Ok. E poi, quindi, dobbiamo costruire questo grafo, la pressione del bottone analisi degli archi, popolare, la table view presente nell'interfaccia grafica, adesso in realtà noi lo modificheremo un attimo, con gli archi il cui peso sia maggiore del peso medio di tutti gli archi presenti nel grafo. Allora, vediamo la parte numerica, dobbiamo prendere tutti gli archi, calcolare il peso medio di tutti gli archi e poi di questi selezionare quelli il cui peso individuale sia maggiore, maggiore, non maggiore uguale, della media che abbiamo calcolato. E vabbè. Gli archi vanno stampati in ordine decrescente di peso, per ogni arco si stampino i due codici NTA e il relativo peso. Qui parlo di una table view e quindi mostrare questi dati come tabella. Quest'anno non abbiamo avuto tempo perché ci sono cascate le feste, alla fine ci hanno ridotto di qualche ora le lezioni e quindi non abbiamo avuto tempo per fare una lezione su come si usano le tabelle in JavaFX. Quindi lo faremo scrivendo in un campo di testo anziché in una table view. L'anno scorso invece avevamo avuto tempo di fare anche l'oggetto tabella quindi all'esame è capitato un paio di volte che chiedessimo di popolare una tabella anziché un'area di testo. Ok, per ora poi nella seconda parte invece c'è una simulazione da fare sul grafo precedente ma cominciamo magari a risolvere la prima parte. Andiamo a vedere nel progetto cosa ci hanno già fornito. cosa c'è già disponibile all'interno del progetto stesso quindi tipicamente nelle varie classi fatemi ingrandire un po' i caratteri se no allora abbiamo dentro la classe model vabbè un model vuoto e un hotspot che rappresenta la riga del 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 database con una serie di campi che a occhio croce forse non sono nemmeno tutti forse è già stata fatta una selezione di campi che potevano essere interessanti. Poi quindi questa è una classe che tra l'altro hai gli oggetti i get resetter sto guardando in fondo se anche già bla 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 c'è un hashcode e un equals che sono stati definiti su quali variabili sulla variabile obgettd.shcode equals va a confrontare l'oggetto stesso l'obgettd che non è una bella cosa perché va a controllare l'identità dell'oggetto e non di un campo identificatore quindi questi magari li vado a rigenerare andando a prendere la chiave primaria del database che era l'obgettd è già questo è già giusto ok quindi va a vedere va a confrontare la chiave primaria poi dal punto di vista del DAO avevamo get all hotspot che legge tutti gli hotspot dal database e basta quindi queste sono le classi di partenza che abbiamo io ho già importato il database vediamo se riesco a farlo partire mi dice che ci sono 3205 hotspot nella tabella chiamando il metodo get all hotspot ok adesso cominciamo a implementare nel modello le parti che ci servono allora le parti che ci servono sono sicuramente l'elenco dei dei boro il controller ha bisogno di popolare la tendina e per popolare la tendina dobbiamo chiedere al modello quali sono questi boro e quindi il modello dovrà avere una variabile per memorizzarli e un metodo per estrarli un metodo che parte dal DAO e poi arriva al model quindi immaginiamo che nel model ci possa essere dunque questo boro è una stringa hanno due caratteri quindi potrebbe essere una lista di stringhe questa parola qua so già che mi odierò perché non riuscirò a scrivere la boro ugh s perché è plurale questa cosa qua il model la può estrarre nel database e fornire al al controller quando gli la chiederà quindi avrà un metodo pubblico lista di boraux lista di string get boraux boraux e cosa dovrà fare questo beh se l'ho già calcolati questi te li restituisco quindi if this.boraux farmi mettere la parentesi diverso da null scusate facciamo il contrario se è uguale a null lo devo chiedere al DAO e poi alla fine ritorno la prima volta che il controller chiede questo fare la query le volte successive se dovesse capitare ho già risultato la query un dato che non cambia non dipende da nulla tanto vale tenermelo memorizzato ovviamente il DAO lo dovrò istanziare come New City DAO e poverino dovrà avere questo metodo che adesso non ha ancora per poco quindi mi faccio creare questo metodo all'interno della classe DAO e dove dovrò fare alla fine questa query che ci torna utile perché l'avevamo fatto appena prima magari facciamo mi sono saltato di fuori in ordine alfabetico ma non è detto che lo siano quindi visto che li devo mettere in una tendina e l'utente li vede li metto in ordine alfabetico ok allora copiamo questo questa sarà la query che devo fare string SQL uguale questa e poi devo fare la query vera e propria quindi avrò la solita trafila preparo un risultato che è una lista di string result uguale new array list di string vuota e poi inizio a fare db connect scusate connection uguale db connect punto get connection poi crea un prepare statement st uguale connection punto prepare statement con questo SQL che abbiamo appena scritto senza parametri metto tutto dentro un carro tra i catch compreso la connessione vai ma non fa mi ricordo di chiudere la connessione a essere precisi la connessione punto close dovrebbe essere una clausola finally perché anche se verificasse un'eccezione sarebbe corretto chiudere la connessione ma per noi se si vede con un'eccezione coraggiamo il programma no? nel senso che non deve succedere ma sarebbe corretto metterla lì dopodiché estraggo quindi while scusate devo eseguire la query result set res uguale st.execute query e while result set.next facile vai result punto add res punto get string della colonna che si chiama lo copio perché non sono capace di scriverlo giusto bor connessione punto close return result ok ne approfitto per fare un commento messaggio che c'è stato questa mattina su telegram di uno di voi che aveva problemi con capire dove fosse un'eccezione eccetera e che aveva un codice probabilmente anche prendendo da altre volte che lo facciamo noi qualcosa del tipo runtime exception e poi con un messaggio assolutamente neutro errore nel db no? o qualcosa del genere allora facciamo attenzione a non fare cose di questo genere perché poi in fase di debugging non riusciamo a capire cosa è andato storto perché alla fine poi nella console samperà un'eccezione con su scritto errore nel db ma è l'errore dove? nella connect nella prepare nell'execute nel next nella close è un errore di sintassi nella query è un errore di password di connessione non lo sappiamo perché in realtà avevamo in mano un'eccezione che conteneva in pancia nella sua descrizione la motivazione poi a volte non è facile da capire perché è anche lì un po' criptica ma poi però con ciò che stampiamo ciò che generiamo e quindi andiamo poi a stampare console non è l'errore precedente ma un messaggio del tutto generico allora in quello caso secondo me è meglio ripassare creare una nuova eccezione che prenda come parametro l'eccezione precedente e non un messaggio generico quindi in questo caso lui dirà eccezione runtime exception alla riga 54 causata da e poi dentro il trace del causata da mi metterà la causa dell'eccezione precedente oppure volendo possiamo fare entrambe le cose errore nel db virgola eccezione quindi abbiamo la signature in cui riceve sia un messaggio sia una causa cioè un oggetto trovo cioè a sua volta un'altra eccezione allora in questo caso almeno nel debug abbiamo il messaggio originario che mi dirà tipicamente errori sintassi nella query tipicamente mi dice la riga 1 perché per lui è una riga 1 ma almeno so che devo andare a vedere la sintassi della query a questo punto questo sprint stack trace che mi mette Java lo posso anche togliere perché in realtà è duplicato perché la throw che mi gira un'eccezione che se non viene catturata automaticamente verrà stampato lo stack trace dimmi ma se io faccio print stack trace quindi ti dici io tengo questa e cancello questa però sto ingoiando l'eccezione in italiano è un po' brutto tradotto così ma swallow the exception dicono gli americani cioè ho un errore poi stampo un messaggio che poi tipicamente nessuno legge e vado avanti come se nulla fosse in teoria è meglio no se c'è stato un errore che di fatto non permette al programma di andare avanti perché il risultato non c'è non l'ho calcolato e allora non devo andare avanti quindi è giusto che mai di un'eccezione se poi sopra di me a questo punto è il model sa come correggere l'errore bene altrimenti è giusto che io pianti il programma quindi stampare un messaggio e poi dire beh io ho mi sembra un po' una risposta burocratica ma io te l'ho detto c'è scritto sul regolamento ho stampato il messaggio fatti i tuoi quindi no prendiamoci la responsabilità o un errore mi uccido il programma oppure adesso poi nel caso di GFX non termina effettivamente il programma perché l'interfaccia va avanti lo stesso però o lo segnaliamo e facciamo in modo che chi lo deve gestire lo gestisca ma non ascoltiamolo ecco soprattutto per noi anche perché se poi in debug se vado in modalità debug quando c'è una eccezione il debugger si ferma in quel punto lì in cui posso andare a esaminare le variabili se invece stampo solo qualcosa il debugger non si ferma e poi diventa più complicato per me ricordiamoci che le eccezioni sono uno strumento per aiutare il programmatore a trovare i propri errori non solo una punizione dall'alto ok questo dovrebbe funzionare sempre il condizionale ed obbligo è il metodo su cui funziona questo e allora se vogliamo chiudere il cerchio su questo primo punto andiamo a chiudere sul controller che per il quale andremo a popolare devo poter modificare qualcosa nel controller perché devo togliere la tabella faccio finta di non averla faccio finta di non averla la tabella lasciamola lì non la uso allora io ho una tendina andiamo a prendere l'fxml così lo vediamo che è la tendina dove dovrebbero esserci i borghi questa tendina qua si chiama cmbboro e questa devo riempirla con il risultato di quella query quindi da qualche parte ce l'ho e devo dire che contiene degli oggetti tipo stringa e poi lo devo popolare attenzione dov'è che la posso popolare la posso popolare nel metodo che qua vedo no c'è set model perché dovendo per popolare bisogna chiamare un metodo del modello e nell'initialize il modello non ce l'ho ancora nel costruttore non viene chiamato nell'initialize non c'è ancora il modello e quindi lo dobbiamo ritardare fino al set model che poi viene subito dopo quindi appena ho il modello io posso crearmi la lista di stringhe che sono i boros se mi sentisse qualcuno pronunciare boros in questo modo uguale model punto get boros e una volta che ho la lista la uso per popolare la tendina quindi combo boros punto get items la proprietà items e una lista e una collection a cui posso aggiungere add all boros vediamo se tutte queste parole sono servite a qualcosa sì abbiamo messo dentro queste cinque cose ok punto 1A finito 1B costruire un grafo semplice per i dati non orientati i cui vertici corrispondono ai codici NTA presenti nel borgo B allora vediamo anche il punto dopo a me serve dato un certo borgo torniamo il database quindi immaginiamo di aver filtrato già per borgo quindi ne abbiamo scelto uno supponiamo che sia appunto il primo BK tanto ce l'abbiamo qua mettiamo in ordine per borgo no questo BK boros ha tanti NTA associati che andiamo a prendere nella colonna NTA code qua e sappiamo già che quanti erano sono tanti NTA diversi ogni NTA sarà un vertice del grafo e poi per calcolare gli archi dovrò andare a estrarre per questo NTA quindi per questo vertice tutti gli SSD che compaiono gli SSD ce li abbiamo qua in quest'altra colonna in quest'altra colonna associati ad un certo NTA quindi adesso metto in ordine per NTA code giusto per vederli vicino questo BK38 compare molte volte però molte volte compare con lo stesso SSD poi possono esserci invece altri vedete che lo stesso SSD viene usato in molti NTA però ci sono le varie possibilità alla fine quello che si vede guardando questi dati così al volo è che il numero di SSD diversi per ciascuno NTA code tende a essere uno magari ce n'è qualcuno che ne ha due ma la maggior parte vedete che c'è un codice e tutti le righe tutti gli access point di questo NTA code hanno lo stesso SSD poi aspetta un attimo avevo ordinato per SSD non voglio avere togliamo l'ordinamento per SSD ok no beh non è vero ne abbiamo un certo numero ma non tanti allora sto guardando questi dati per chiedermi cosa faccio come query io potrei fare una query semplicissima dammi gli NTA code e ho i vertici poi a quel punto per calcolare gli archi dovrò andare per ogni NTA code per ogni vertice a chiedere quali sono gli SSD oppure magari mi costruisco un oggetto che per ogni vertice un oggetto che contenga dentro l'NTA code e l'elenco degli SSD associati a questo in un acquirisola quindi quindi di fatto avrò un vertice che è un oggetto che contiene l'NTA e i suoi SSD così quando vado a calcolare i pesi di vertici ho già tutto dentro il grafo in qualche modo non devo fare delle query aggiuntive è la prima cosa che mi viene in mente mi sembra la più semplice se io farei una query del tipo senti la più semplice potrebbe essere dammi tutti gli NTA e allora questo va bene select NTA code from la tabellona lì che è sempre lei mettiamoci un distinct per non morire where boro uguale questo è il nostro vincolo prendiamo quello piccolo SI quindi posso avere questi che sono in questo caso sono 15 perché probabilmente erano 95 ma alcuni possono essere ripetuti nella query precedente non ho messo il distinct quindi ho dei numeri che sono sovrastimati i numeri effettivi sono questi quindi questo continua a essere sempre più piccolo ma gli altri per fortuna sono più ragionevoli come dimensioni allora in questo caso ho questi io potrei fermarmi qua oppure fare una query in cui a ciascuno di questi associo anche tutti gli SSD corrispondenti quindi vado a scegliere anche gli SSD e avrò una cosa di questo genere è un pochino più complicato da gestire perché magari proviamo a metterli in ordine o SI01 che ha questo guest wifi SI5 che ha questo guest wifi però vedete che rispetto alle 15 righe di prima c'erano in 15 NTA code ho adesso 25 righe perché effettivamente c'è SI14 che ha due SSD quindi se io facessi una query di questo genere chiaramente è un pochino più difficile da costruire perché io devo costruire un oggetto NTA per questa riga un oggetto per questa riga un oggetto per questa riga e un oggetto non scusate è un oggetto solo per queste tre righe quindi devo fare attenzione quando leggo il database se devo creare se sto passando a quello successivo o se rimango a quello precedente però un pochino di lavoro in più forse mi evita di fare un'altra query in cui vado per ogni vertice a chiedere separatamente gli SSD più o meno siamo lì quindi mi crea un oggetto che contenga attenzione non le righe di questa tabella qua ma di fatto raggruppiamo questi tre in una lista o meglio ancora in un set visto che poi dopo dovremo fare l'unione e contare l'dimensione quindi tanto vale avere un set conclusione una possibile conclusione poi ciascuno di voi avrà la propria io mi faccio una classe che nel modello che chiamo NTA ok che contiene dentro una stringa che è l'NTA code dove era la maiuscola sì e poi un set di stringe che sono gli SSID S plurale set ovviamente già appunto uti.set questo è l'oggetto che vado a creare quindi mi faccio generare i soliti metodi canonici costruttore get resetter e poi visto che questo dovrà diventare il vertice del mio grafo deve essere hashable quindi devo avere un campo identificatore che è chiaramente l'NTA code quindi abbiamo i SCode e Equals che lavorano sull'NTA code che è la tasa non stringe ok questo è il mio oggetto vertice nel grafo allora chiederò al DAO di costruirlo di fare quella query e costruirmi una lista di questi oggetti nel modello semplicemente avrò una lista di NTA chiamiamola NTAs e che poi popoliamo nella crea grafo la grafo riceve come parametro un singolo boro che è stato scelto dall'utente boro UGH e come prima cosa andrà a recuperarsi i vertici del grafo quindi l'NTA chiedendogli al DAO o punto get NTA by boro parametro boro questo è il punto di partenza del nostro grafo i vertici grafo che sarà un grafo vabbè andiamo prima dentro il DAO poi creiamo il grafo quindi dobbiamo creare di nuovo il DAO devo crearlo poverino prima di chiamarlo e mi faccio creare il metodo che fa il lavoro di prima quindi string SQL di prima che abbiamo appena visto nel database uguale questa roba qua no non questa roba qua quella roba che abbiamo scritto prima mettiamo posto i soliti spazi e al posto di SI ovviamente ci mettiamo il punto interrogativo perché il nostro parametro punto e virgola creiamo la lista di NTA risultante il mio risultato result uguale new array list dnta e eseguiamo la query e fin qua andiamo in automatico st uguale st uguale connection punto prepare punto e virgola poi dobbiamo settare il parametro questo punto è una qui di parametrica quindi st punto set il parametro è un tipo stringa string primo e unico parametro col valore boro e a questo punto possiamo eseguirlo mettiamoci facciamo un po' di try catch così ci mettiamo dentro ok adesso eseguiamo result set res uguale st punto execute query e andiamo ad analizzare result set questa volta è un pochino più complicato while res punto next ricordiamoci di fare connection punto close e alla fine abbiamo un bel return di result e fin qua è facile allora cosa facciamo qua dentro noi abbiamo una nuova riga di questa tabella e ci sono due casi o questa riga è come la prima o come la seconda cioè mi da un NTA nuovo e allora devo creare un nuovo oggetto oppure come anche nella terza riga S107 è il primo che vedo e quindi devo creare un nuovo vertice oppure può capitare come questa altra riga dove S107 è uguale al precedente ricordiamoci che ho messo order by quindi quelli uguali li ho di fila apposta non li voglio avere sparsi se no mi complica la vita allora visto che è uguale a quello precedente non devo creare un nuovo vertice ma devo semplicemente aggiungere un SSD al vertice esistente quindi ogni volta mi devo confrontare con l'ultimo SSD che ho aggiunto questo scusate con l'ultimo riga che ho letto se l'NTA code è uguale a quello precedente aggiungo un SSD all'elemento che ho già altrimenti creo un nuovo elemento quindi mi conviene ricordarmi qual è l'ultimo last NTA code che ovviamente all'inizio non conosco e poi quando leggo un elemento mi chiedo l'NTA code di questo elemento è nuovo? è diverso da quello precedente if res punto get string di la colonna si chiama NTA code non è uguale quindi è diverso not punto equals al mio last NTA code last NTA code quindi è un codice nuovo diverso da quello precedente allora aggiungo un nuovo vertice quindi avrò result punto add new new NTA che ha come parametro l'NTA code qui facciamo come normalmente quando creiamo gli oggetti del database aggiungo result set punto get string di NTA code e il secondo e il secondo parametro invece result punto string alla t result punto get string di nuovo ssd in realtà non proprio perché il secondo parametro di NTA non è una stringa ma è un set di stringhe quindi devo prima crearmi il set di stringhe con dentro una stringa sola quindi il secondo parametro sarà un new hash set di string che inizializzo con questa stringa qua se me lo lascia fare non mi ricordo se sei costruttore no non lo lascia fare perché lui vorrebbe una collection e vabbè allora lo faccio fuori scusatemi allora perché ha una set con un elemento non lo so c'è no se c'è ditemelo se no lo faccio vecchia maniera scd is uguale new facciamo un set normale uguale hash set e poi ci aggiungo questo va importato punto add di questo solo perché il costruttore riceve una collection ma non un singolo elemento quindi come l'ho chiamato l'ho chiamato in modo strano e quindi qua gli posso passare questo signore qua se poi trovate il modo più compatto di farlo quindi qui ho creato un nuovo elemento e a questo punto mi devo salvare perché altrimenti last and t a code uguale questo qui cioè quello che ho appena letto diventa l'ultimo diventa il precedente dimmi riusci a fare un po' più forte non ho capito cosa vuoi creare la lista di sì ah ok ok sì sì ho capito ciò mi dici il set no questo set qua anziché dovremmelo creare poi nel costruttore io modifico il costruttore di NTA si può anche è un costruttore a questo punto io direi sì direi che il costruttore avrebbe un parametro solo cioè non mi piace che avrebbe un parametro di tipo diverso avrei un parametro solo che è l'NTA e quindi mi costruisci il set vuoto e poi subito dopo quel set ci aggiungo ci aggiungono sì si potrebbe anche fare così vedi si paga la pigrizia perché io ho fatto generare il costruttore in automatico adesso devo lavorare di più ok allora dicevamo questo qua è nel caso in cui sia diverso altrimenti nel caso in cui sia uguale devo semplicemente aggiungere l'SCD al l'ultimo NTA code che ho aggiunto dove ce l'ho ce l'ho al fondo di result quindi posso andare a prendere l'ultimo elemento di result get result punto size meno uno l'ultimo elemento di questo prendo il set e a questo set aggiungo l'SCD che ho appena letto questo qua non posso fare set SCD perché non sto sostituendo il set con un altro completamente nuovo prendo il set che è dentro va già un elemento e ce ne aggiungo un altro di nuovo se avessi fatto meglio l'oggetto NTA avrei avuto un metodo aggiungi anziché dovermi prendere la struttura dati e poi aggiungere gli elementi ma allora questo dovrebbe se va bene portarmi a ciò che mi serve alla fine di questo result punto next quindi alla fine di questo ciclo io posso ecco sono qua restituire il result che dovrebbe contenere questi valori ok altrimenti ci mettiamo l'eternal e via almeno dobbiamo ritornare a qualcosa allora vediamo se funziona quindi torniamo nel modo che a questo punto chiamava già questo signore e proviamo a fare una cosa semplice per ora vediamo cosa esce fuori ovviamente per poter fare print dovrò tornare su NTA e metterci un un toString e vediamo cosa esce fuori lo agganciamo al controller ma per ora è semplice perché noi dovremmo fare il Ducreagrafo andando a prendere il boro dalla combo box se questo è stato selezionato vabbè facciamo il contrario se è null mettiamo un errore punto append text seleziona una voce return altrimenti model punto creagrafo con questo boro e poi vediamo quindi vediamo cosa esce fuori semplicemente ho messo la creagrafo nel controller la creagrafo a sua volta non crea ancora il grafo ma chiama questo metodo del DAO che teoricamente mi crea questa lista di NTA con dentro i set vediamo se la teoria è supportata dalla pratica selezione SI che sappiamo che è piccolo creagrafo non è andato in crash ed è una stranezza e mi dice NTA code SI01 SCD gas wifi poi lo sappiamo il primo aveva solo un elemento S5 aveva solo un elemento il terzo S7 aveva effettivamente tre elementi ops tre elementi niente non riesco a selezionare perché sono imbranato ma li guardiamo senza selezionarli questi tre e poi andiamo avanti alcuni avranno un elemento alcuni ne avranno di più eccetera eccetera una verifica che conviene fare sempre quando facciamo queste operazioni in cui vado a vedere un elemento col precedente doppia attenzione al primo e all'ultimo perché sono due casi particolari allora l'ultimo l'abbiamo preso è 654 NYPL sì è giusto ce l'abbiamo preso e il primo anche perché abbiamo inizializzato questa stringa a vuoto a stringa nulla così la prima volta di sicuro lo prende come una cosa nuova però ricordiamoci di pensarci quelli in mezzo sono più facili il primo e l'ultimo sono più critici ok allora abbiamo questa struttura dati possiamo darla per creare il grafo grafo eh no private che è un grafo con NTA come vertici e archi pesati no? weighted edge grafo quindi nella nostra crea grafo possiamo creare togliamo questa print e possiamo creare il grafo quindi this.grapho uguale new grafo semplice non orientato pesato potrebbe essere simple weighted graph se ricordo bene classe default weighted edge punto class a questo grafo aggiungo i vertici grafo graph punto add all vertices this.grapho virgola this.mth page e poi aggiungo gli archi per aggiungere gli archi non ho bisogno più di fare nessuna query perché tutte le informazioni che mi servono le ho già nel grafo cioè informazioni accessorie dentro il vertice stesso quindi io posso considerare tutti i possibili coppie di vertici distinti tra loro perché il grafo è semplice quindi non posso avere un arco tra un vertice e se stesso for nta n1 due punti this.nta for nta n2 this.nta if se sono diversi not n1 punto equals di n2 allora devo creare un arco il cui peso sia pari alla dimensione del set unione eccetera eccetera allora vado a creare un nuovo set unione uguale set di cosa set di string unione con un nuovo hash set di string e lo inizializzo con con gli ssd di un vertice n1 punto get ssds e stavolta non si arrabbia perché ovviamente è già un set è già una collection non è un valore singolo e poi a questa unione aggiungo add all dovrebbe essere aggiungi tutti gli elementi della specifica collega a questo set se non sono già presenti ok questo è così quindi il valore è l'unione dei due insiemi non si chiama union ma si chiama add all ma noi ce la facciamo piacere n2 punto s get ssds costruisco un set copiandosi dentro i primi aggiungendo i secondi e contando il risultato quindi a questo punto aggiungo il peso graphs punto set edge weight no add edge grafo vertici di partenza vertici di arrivo peso unione punto size c'è la fatica che ho fatto prima nel DAO per costruire questa struttura dati alla fine qua me la sono ripagata dimmi sì allora giustamente tu dici avendo i due for io ho il vertice 1 e 3 e poi dopo più tardi avrò il vertice 3 e 1 quindi ogni vertice viene usato due volte un problema non c'è nel senso che l'add edge crea un nuovo arco solo se esso non c'è dovrebbe l'idea di se restituisce il nuovo created edge se è certo effettivamente di un tuo grafo altrimenti si restituisce null quindi non mi crea danno chiaramente faccio il lavoro due volte se volessi non fare il lavoro due volte dovrei anziché dire avere un test di diversità un test di maggiore o minore per rendere il ciclo asimmetrico posso farlo diciamo solo da guadagnarci quindi io mi metto questo come commento e qua potrei dire se n1 è minore strettamente di n2 ad esempio ovviamente n1 e n2 sono degli oggetti quindi non posso dire minore compare to non avrebbe senso però posso confrontare ad esempio il loro nome il code quindi potrebbe essere una stringa quindi potrebbe essere n1 punto get nta code compare to n2 punto nta code minore di 0 allora in questo caso evito la doppia considerazione di ogni verti di ogni arco perché uno solo di due scelgo un ordine con cui considero gli archi e non l'ordine inverso prendo anziché la matrice quadrata la triangola superiore o inferiore secondo come la volete disegnare però appunto per come funziona l'add edge al massimo faccio del lavoro in più ma lui si accorge che l'arco c'è già e non lo aggiunge nel caso in cui invece il grafo fosse orientato allora no questo è importante devo mettere tutte e due devo considerarli tutte e due perché sono indipendenti abbiamo visto e direi che facendo questo vedendo i dati ci siamo convinti che non esistono archi con peso zero cioè quegli insiemi di SSD non sono mai insieme a vuoto quindi in realtà questo sarà quello che stiamo costruendo è di fatto un grafo completo ci sono tutti gli archi sempre con peso diverso ma un'unica mega groviglio completo appunto con tutte le connessioni possibili e immaginabili di questo cosa dobbiamo fare beh prima di tutto vediamo che bisogna andare in crash quindi magari proviamo a rilanciarlo e giusto verifichiamo cosa abbiamo creato che mostro abbiamo creato stampiamo il numero di vertici e il numero di archi giusto per vedere size alle parentesi per vedere cosa abbiamo fatto quindi adesso scegliamo di nuovo l'SI crea grafo non è andato in crash e mi dice che ho creato 15 vertici e 105 archi 15 per 14 ditemi che fa 105 no no quindi abbiamo perso qualche arco per strada ah no aspetta 15 per 14 ci do 2 105 ok siamo arroginiti ma alla fine ci arriviamo perché non è orientato quindi devo considerare la metà delle coppie ok quindi questo se io poi cambiassi il boro e prendessi un altro lui mi crea un altro grafo 47 per 46 diviso 2 1081 è il numero che abbiamo qua ok allora adesso dobbiamo semplicemente fare punto D cioè pressione il bottone analisi archi popolare table view beh a questo punto non sappiamo usare table view quindi stampiamo nel text result gli archi il cui peso sia maggiore del peso medio di tutti gli archi presenti nel grafo quindi devo prendere gli archi calcolare il peso medio e restituire solamente quelli il cui peso sia maggiore del peso medio e poi li devo stampare se stampino i due codici NTA e il relativo peso ok allora avrò un metodo nel model che a questo punto lavoro solo più col grafo il DAO non mi serve più possiamo chiamarlo anche questo metodo come si chiama il bottone no analisi archi public analisi archi cosa restituisce questo public analisi archi devo restituire una lista degli archi ordinata cioè chiaramente già filtrati selezionati e ordinata per per peso decrescente e vabbè allora mi potrebbe venire voglia di dire ma io che oggetto restituisco come arco potrei restituire un default weighted edge non mi piace tanto restituire un default weighted edge perché sta roba qua restituisco il controller ma che ne sa il controller di jgraph t se gli do un oggetto che quel controller lì magari non conosce o meglio chi ha sviluppato il controller non ha in mente il grafo tutte graf spunto per andare a estrarre le informazioni dall'oggetto grafo così come io questa lista la devo ordinare ma qual è il comparator di default weighted edge c'è ce l'ha allora magari per stare tranquillo mi faccia un oggettino mio che contenga i dati che mi servono che così semplifica la vita al controller anche ma il difetto semplificherà la vita anche al model per ordinarlo più facilmente quindi io potrei farmi un mio arco che non è l'arco interno al grafo ma le informazioni di un arco teniamo l'arco in cui ci metto non più l'oggetto vertex l'oggetto nta ma semplicemente la stringa col codice serve solo quello quindi potrei avere private string chiamiamolo v1 vertice 1 private string v2 private double peso e ci facciamo costruire i metodi soliti costruttore getter e setter ma sono anche solo i getter perché non vedo perché debba essere mutabile questa roba qua e sicuramente il comparatore diamo un ordinamento naturale che sia ordinamento per peso e magari un to string che vada già bene al controller quindi per renderlo confrontabile dobbiamo aggiungere l'implement qua sopra comparable le di arco e quindi facciamo implementare un compare to che andrà a confrontare i due double attenzione attenzione a a non fare questo minuto del secondo normalmente facciamo this meno other ma qui vogliamo ordinare in modo decrescente quindi ho fatto other meno this però questo è sbagliato in questo esercizio funziona lo stesso però già che ci sono commentiamo il fatto che è sbagliato perché sono dei double questi signori qua ok? e il risultato del compare to invece è un int allora cosa capita se questi due pesi fossero che ne so 0,7 e 0,2 quando faccio la sottrazione chiaramente sono diversi quindi 0,7 è maggiore di 0,2 ma quando faccio la sottrazione mi viene 0,5 int di 0,5 fa 0 quindi numeri in cui il maggiore sia maggiore del minore di una quantità minore di 1 questa formula restituisce 0 e quindi vengono trattati come se fossero uguali l'argomento di ordinamento non li tocca non li sposta, non li mette a posto ok? dimmi ma come fai se è un double in peso se la piaccia non serve? esatto quindi in questo caso come dicevo non si verifica io ho messo double ma perché hai messo double? perché dentro default weighted edge ho un double l'oggetto default weighted edge è un double allora se voglio travasare dentro da qualche parte del double int devo passare allora forse in questo caso specifico probabilmente è più furbo mettere un int qua dentro ok? anziché un double e quindi quando estraggo il peso dall'arco lo converto ad int ma tanto so che ci ho messo dentro un intero quindi in questo caso sarebbe anzi magari se lo facciamo è la soluzione più semplice da qualche parte da double purtroppo il default weighted edge accetta un double come peso non accetta e non è non c'è la versione che accetta un int e qua è andato il micro non è neanche morto semplicemente ha messo di funzionare ok vabbè adesso lo sistemiamo con un integer quindi lo sistemiamo prima la soluzione giusta quale sarebbe qua? vabbè o mettere l'if if maggiore, uguale, minore ma non abbiamo mai voglia di farlo oppure qua non a caso ci ho messo una D maiuscola e deleghiamo a compare to del double quindi in questo caso restituerei qualcosa del tipo meno this punto compare to other this no scusate this punto peso punto compare to other punto peso sono oggetti double con la D maiuscola sapranno compararsi no? perché volevamo lo decrescente? il meno perché lo vogliamo decrescente sì oppure potremmo mettere other compare to this sì sì è un comparatore in retromarcia questo facciamo sempre attenzione quando creiamo dei comparatori e tronchiamo i dati che stiamo confrontando se no come dite voi mettiamoci un int integro oppure int uguale e a questo punto abbiamo effettivamente other punto peso meno this punto peso dimmi allora double oppure int con le maiuscole sono oggetti quindi sono oggetti con tutti i metodi a contorno in particolare il metodo compare tool il metodo equals eccetera eccetera mentre quelli con la lettera minuscola sono tipi di dato predefiniti del linguaggio quindi sono dei valori primitivi cosiddetti quindi non sono oggetti non hanno metodi posso allora a Java poi ha una serie di come si chiamano metodi meccanemi di autoboxing e auto-unboxing nel senso che converte tutte le volte che vede un int piccolo più un integer oggetto sommati o confrontati li converte in automatico eh sì perché quello è un oggetto devi usare equals sì perché se tu fai integer a uguale uguale b che è un altro integer quello uguale uguale sta andando a confrontare l'identità degli oggetti non il loro valore e quindi può darsi che tu abbia due oggetti integer che hanno lo stesso valore all'interno ma in realtà sono due istanti distinte specie se sono interi grossi di solito se sono interi piccoli Java se ne accorge e crea un'istanza sola perché è una sua ottimizzazione interna cioè di fatto arriva già con una serie di integer predefiniti ma quindi sì se sono oggetti lettera maiuscola oggetti metodi gli operatori più o meno per diviso eccetera triggerano una conversione automatica l'uguale è invece un'eccezione perché è definito anche tra gli oggetti ma con un significato diverso rispetto alla semantica che ha per gli oggetti predefiniti non predefiniti scusate primitivi questo è il nome che gli danno ok dove eravamo eravamo a dire che restituiamo un oggetto di tipo arco in questa analisi archi beh a questo punto è facile nel senso che il lavoro significa semplicemente vado a calcolare la media degli archi va bene questo mi serve come double double media uguale 0 prendiamo gli archi e facciamo la media for default weighted edge e due punti this punto grafo punto vertex set edge set itero direttamente sull'edge set è inutile che iteri su un vertice per poi trovare i suoi archi e poi evitare di considerare due volte lo stesso arco per ogni arco vado a prendere il suo peso media uguale più dis punto grafo punto get edge weight di e quindi dato l'arco e trovo il suo get edge weight che è un metodo di grafo non è un metodo di arco stranamente è un metodo di grafo ma va bene e aggiungo la media e poi questa media alla fine del ciclo ovviamente sarà divisa per il numero di archi media uguale media diviso dis punto grafo punto edge set punto size e fin qua abbiamo calcolato la media a questo punto possiamo calcolare il risultato c'è la lista degli archi da ritornare list arco result uguale new array list di arco ci metto dentro tutti e soli quelli che hanno il valore maggiore della media quindi di nuovo hitter sull'edge set guarda qua che ce l'ho già qua il for se il peso di questo arco qua che è questo calcolo qua è maggiore maggiore di media allora devo creare un nuovo arco in questa lista result punto add new arco e dentro arco ci metto v1 v2 è il peso quindi v1 è il nome del vertice 1 e cos'è il vertice 1? è la sorgente del grafo quindi è this punto grafo punto e get aspetta dis punto grafo punto get edge source eccolo qua di e purtroppo per interrogare il grafo devo passare un arco l'arco e non ha metodi tutti i metodi sono dentro il grafo quindi chiedo al grafo qual è il sorgente del vertice e mi dà un oggetto tipo nta io voglio una stringa e quindi ne prendo l'nta code idem per l'altro vertice a cui l'arco è appeso this punto grafo punto get edge target di e get nta code e alla fine il peso che è un int tronco intero ma in realtà dovrebbe già esserlo del peso che abbiamo appena scoperto essere maggiore della media poi se i comparatori non sono un'opinione basterà fare result punto sort ah scusate collections punto sort di result e ritornare result e ritorniamo questa elenco di archi filtrati da questo confronto con la media ordinati per peso speriamo decrescente l'ultimo passaggio agganciare questo al controller analisi archi quindi abbiamo un metodo di analisi archi che prenderà una lista di arco model punto analisi archi arco lo devo importare perché il controller non lo conoscevo ancora for fatemi mettere un two string dentro l'arco così faccio prima stampare poi si può mettere in bella ma for arco a due punti archi txtresult punto append text a punto to string a più a capo vediamo un po' chiudiamo la versione precedente del programma si stava ancora girando lo rilanciamo si crea grafo anasi anasi gli archi in teoria sono più o meno la metà di 105 dico più o meno la metà perché la media non è uguale alla mediana mi dà una serie di archi 6,7 6,14 6,7 6,24 con il valore di peso che effettivamente è decrescente presumo che la media sia 2 o tra il 2 e il 3 perché mi dà solamente valori non abbiamo stampato nessuna parte la media ok allora a parte l'estetica di questa cosa qua che sarebbe da scrivere un po' meglio ma basta mettere a posto il 2 string dovremmo essere a posto con la parte 1 dell'esercizio per simulazione vi chiedo di aspettare fino a 1 d potete anche non aspettare potete farvela voi ma io la faccio lunedì insieme a voi nella seconda ora ok dimmi una domanda su come abbiamo facciato l'analisi degli archi e la creazione dei vari dei 10 si 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 certo ma essendo un grafo che ha n quadro mezzi archi per come è costruito per come è definito non potevo fare di meglio no allora noi abbiamo visto all'inizio quando abbiamo creato i grafi abbiamo detto ci sono tre modi di creare gli archi modo 1 modo 2 modo 3 in realtà questo qua è modo 4 ogni volta uno valuta cosa è meglio fare allora se tu dici mi faccio una query in SQL che mi dia già tutta l'informazione per creare gli archi poi voglio vederti fare quella union dei set in SQL ma si può fare piangendo il giusto ma o piangi in Java o piangi in SQL a tua scelta alla fine ti vengono sempre sempre n quadro mezzi cioè n per n meno uno mezzi archi poi quel lavoro lì lo fai fare al database lo fai fare a Java alla fine è indifferente è chiaro che noi abbiamo visto prima che questi archi questi grafi hanno una cinquantina di vertici quindi non ho problemi di efficienza non ho un grafo con 10.000 vertici e quindi 10.000 al quadrato come diventare pesante tra l'altro io qui non faccio n quadro query faccio n quadro calcolini di set quindi roba di codice Java che impiega microsecondi non decine di millisecondi come una query però abbiamo visto prima questi non sono grafi enormi e quindi mi tolgo il pensiero di dover per forza fare qualcosa che eviti di fare n quadro query se mi viene a fare n quadro query le faccio se mi viene a fare n quadro calcoli come ho fatto qua li faccio se mi viene a fare una query unica che tira fuori tutto lo faccio lo stesso io il criterio che mi darei è prendo la strada in cui mi sento più sicuro no? ma non è detto dipende che operazioni fai alcune operazioni il database è fatto per quello addirittura il database che avevano proprio di partenza non avevano anche le chiave esterne quindi quelle query ci metteranno ancora molto di più però dipende dalla query a volte se devi fare in SQL delle operazioni di confronto tra più righe quindi un join di una tabella con se stessa oppure dei calcoli etimetici gli sballa gli indici non può più usare gli indici perché deve lavorare con dei valori calcolati e scende di prestazioni mentre invece magari sugli oggetti riesce a fare prima ma è difficile dare una regola generale anzi per fortuna non esiste una regola generale potrei dire se in alcuni computer non c'è simbiler installato lo segnalate e lo facciamo installare noi in teoria non dovreste all'esame toccare l'interfaccia utente perché l'abbiamo già finita però aprirlo per vedere una cosa è giusto che lo possiate fare quindi se avete se vi siete d'accordo che su qualche computer non c'è il software correttamente installato lo dite e lo facciamo installare no no assolutamente va bene alla prossima